La questura di Salerno, quali le motivazioni e cosa si aspetta? Nell'ambito di un turnover anche la questura di Salerno ha effettuato un piano di movimenti che riguardano i funzionari della stessa questura, perché io sono un convinto assertore che il funzionario debba rimanere un determinato periodo al proprio posto e poi debba essere rinnovato nell'incarico, perché questo comunque produce maggiori stimoli, che poi alla fine si traducono in maggiore redditività dell'ufficio. Per quanto riguarda questa nuova esperienza, da Roma a Salerno, cosa si aspetta da questo territorio? Hai già avuto modo di capire come è la situazione? La presenza sul territorio in una realtà come quella salernetana rappresenta sicuramente un ulteriore approfondimento di una serie di problematiche che sono state da me trattate anche già a livello centrale. Da Roma io in realtà facevo parte della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione che coordina tutte le digos sul territorio. L'aspetto più rilevante è vedere l'applicazione concreta di una serie di necessità che sono dell'intero territorio nazionale, quindi rappresenta da un certo punto di vista un approfondimento specifico su un territorio, qual è quello salernitano. Quindi io sono molto contenta di approfondire questo aspetto. Subito al lavoro possiamo dire che domani c'è il concerto di Tiziano Ferro? Sicuramente subito al lavoro c'è Giffoni, abbiamo anche personalità che visto il periodo estivo e vista la bellissima costiera sono quasi tutti presenti qui da noi e quindi anche dal punto di vista dell'ordine pubblico rappresenta una sfida che mi accingo a compiere sicuramente con sforzi anche fisici potremmo dire visto un trasferimento molto rapido nell'ambito di una settimana è avvenuto quindi diciamo ci sono delle tempistiche. Io dal punto di vista professionale ho lavorato a Milano precedentemente sul territorio quindi una realtà molto più grande e la prima volta che mi confronto su un territorio potremmo dire provinciale ma non in termine negativo voglio utilizzare questo termine ma sicuramente con difficoltà da un punto di vista logistico, da un punto di vista di mezzi che il questore sta cercando anche in parte diciamo di risolvere insomma. La colestra Vernitana quindi conosce già bene il territorio, quali sono i principali tipi che dovrà affrontare ultimamente il tema dei parcheggiatori abusivi ad esempio molto importante? Su questo penso che sono stati i carabinieri a svolgere un'indagine anche con successo. Le problematiche principali rimangono sul territorio salernitano quelle legate agli aspetti occupazionali come d'altronde in tutta la campagna. Aspetti legati più all'anarchismo o propriamente all'autonomia li vedo più limitati sul territorio salernitano. Ci sono state delle manifestazioni anche recenti che riguardano la destra, potremmo parlare di estrema destra per quanto riguarda sia Casa Pound che Forza Nuova. Non ci sono chiaramente al momento, grazie anche all'attività di prevenzione svolta, problematiche specifiche legate al terrorismo internazionale. Però rappresenta questo una delle sfide attuali, visto che Salerno è uno degli hub su cui arrivano anche gli stranieri, gli sbarchi e quindi di conseguenza anche su questo bisogna svolgere un lavoro molto attento. E' un coordinamento anche con la provincia, a questo punto visto che c'è questa ramificazione? I coordinamenti sono fondamentali perché funzioni un'attività, è necessario il coordinamento con la provincia, è necessario il coordinamento con la regione e col comune soprattutto, suppongo, e anche con la Croce Rossa che ci sta dando una validissima mano in questo periodo, visto che utilizziamo una struttura che è della Croce Rossa dove appoggiare gli immigrati nel prima fase di identificazione. Fondamentale è anche la comunicazione delle attività della Costura con il nuovo responsabile Assolutamente sì, in linea con le politiche ministeriali, noi abbiamo sempre sperimentato con il mio predecessore, la dottoressa Concia, che ringrazio per i preziosi suggerimenti che mi ha dato per svolgere al meglio questo lavoro. Gli indirizzi ministeriali sono quelli di un'amministrazione aperta, trasparente e sempre pronta a dialogare con tutte le parti della società. Io con alcuni di voi abbiamo già un rapporto pregresso per i tanti servizi che ci siamo trovati a condividere noi dal punto di vista professionale, voi dal punto di vista dell'informazione. Mi auguro che questa collaborazione sia ancora più stretta per il futuro. Grazie.